È febbraio 18, 2018, in Mantua, Italia. In un po' di immagini è un'altra domanda. Siamo qui con Fredrik Pettersson, bassista, in questa band svedese Chevy Metal, Portrait. Ciao, Fredrik, come sei? Sono molto bene. È stato un giorno molto caldo, ma è molto bello essere in Italia. Non ho mai stato qui prima. E questo è, credo, la più grande stagione di oggi. E io mi piace le grandi stagioni, con una grande stagione, possiamo andare a fare altri giocatori, e ho una grande speranza per questo gioco. E spero che le persone venne qui. Grazie. Grazie.